Siamo alla 25esima edizione di Franciacorta in Fiore, quindi grande merito di chi la pensò 25 anni fa, tutti l'hanno portata avanti e anche noi lo stiamo facendo. Nel frattempo siamo riusciti un po' a coinvolgere i comuni della Franciacorta che faranno iniziative legate a Franciacorta in Fiore, nuove aiuole, nuove installazioni eccetera. È un onore per me ovviamente essere qui a rappresentare il comune in questa importante edizione che ci auguriamo supererà le precedenti. In che senso? Che abbiamo sicuramente dei froricoltori ma quest'anno abbiamo inserito anche il tema delle api come elemento cruciale della manifestazione stessa. Presentata presso il castello di Bornato la 25esima edizione di Franciacorta in Fiore che si terrà i giorni 17, 18 e 19 maggio. Significativo il tema di quest'anno, fiori e api, essenza di vita e dolcezza infinita, due elementi fondamentali per il benessere del nostro ecosistema. Le iscrizioni per gli espositori sono aperte fino al 17 di aprile e i biglietti acquistabili in loco oppure sul sito www.franciacortainfiore.it. Siamo qui oggi in questo meraviglioso castello per la conferenza stampa in vista della 25esima edizione di Franciacorta in Fiore. Franciacorta in Fiore quest'anno avrà come caratteristica il tema degli insetti pollinatori che per i non addetti ai lavori sono le api. Abbiamo quindi declinato il tema come fiori api, essenza di vita e dolcezza infinita e abbiamo tante attività previste per Franciacorta in Fiore proprio inerenti al tema api. Avremo un convegno in collaborazione con Fondazione Kojime e addirittura alla fine del convegno ci sarà una degustazione di miele ad opera degli apicoltori locali. Abbiamo poi insieme a Terra della Franciacorta come ogni anno una collaborazione che porterà ad avere sul territorio giardini e aiuole proprio contenenti piante mellifere ovvero piante fondamentali per le api e gli insetti impollinatori. Quest'anno Franciacorta in Fiore si apre nuovamente come nelle ultime edizioni a tutti i comuni di terra della Franciacorta quindi in tutto 22 amministrazioni comunali. Siamo molto contenti di aver raggiunto anche quest'anno l'accordo con il comune di Cazzago San Martino perché questa manifestazione non rimane una manifestazione di Cazzago ma pur essendo nata qua si apre tutto il territorio e quindi apre tutto il territorio della Franciacorta una riflessione importante sul tema api e fiori e quindi sul tema della tutela dell'ambiente. Tema questo che appartiene a tutte le amministrazioni comunali e che vuole essere un filo conduttore di questa e di altre iniziative che noi comuni portiamo avanti. Terra della Franciacorta negli ultimi anni è un partner fondamentale del comune di Cazzago come di altri comuni per altre importanti manifestazioni e questo dimostra appunto il risultato molto importante che Terra della Franciacorta ha raggiunto nell'ambito franciacortino e direi di più nell'ambito provinciale. Sono Claudio Vertuan, presidente dell'associazione apicoltori della provincia di Brescia e dell'associazione regionale apicoltori lombardi. Sono molto contento di questo tema che viene dato quest'anno Franciacorta in fiore perché c'è un collegamento fra le api e i fiori, le api hanno bisogno dei fiori e i fiori per essere impollinati hanno bisogno delle api ma poi il collegamento con quello che è l'ambiente perché è molto importante perché le api hanno bisogno di un ambiente sano e di un ambiente con molta biodiversità non solo per produrre il miele ma anche per la loro sopravvivenza. Occorre una biodiversità vegetale che molte volte sta scomparendo per cui le api stanno soffrendo non solo perché non producono il miele ma anche perché hanno difficoltà a sopravvivere, hanno difficoltà perché gli manca il loro alimento che è il miele e il polline.